La settimana degli sport in mare e Marelba è terminata con regate, beach volley e nuoto. Bene, il bilancio delle iniziative sportive e del progetto Icaro. Gli ultimi giorni di Marelba sono stati caratterizzati dagli eventi sportivi, in modo particolare dalla regata delle imbarcazioni di categoria Swan a Marciana Marina con tre giorni consecutivi di regate, concluse da un lungo appuntamento conviviale durante il quale sono state fatte le premiazioni. La caratteristica di questo tipo di imbarcazioni è la loro bellezza, tanto è vero che vengono chiamati anche i scigni del mare e anche nel momento delle premiazioni questo viene valorizzato perché oltre a premiare chi ha vinto la regata, vengono premiate anche l'imbarcazione più bella, quella mantenuta meglio, addirittura l'equipaggio più elegante e Marelba ha fatto un proprio premio all'imbarcazione che ha vinto la regata costiera. Oltre alla vela, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla beach volley alla Kona con una guerritissima finale sia maschile sia femminile e infine dalla gara di nuoto che anche quella si è conclusa qui alle ghiaie con un appuntamento conviviale tutti insieme a tutti quelli che avevamo avuto la costanza di rimanere fino all'ultimo domenica mattina. Una prospettiva per il futuro, oltre naturalmente a ripetere gli eventi sportivi che ormai caratterizzano da ben sette anni Marelba, riguarda in modo particolare il progetto Icaro. Faccio un breve riferimento al gemellaggio che c'è stato con chi è venuto a visitarci l'anno scorso, i ragazzi di San Donato milanese che abbiamo incontrato a Roncobello, quindi sopra San Pellegrino a aprile ultimo scorso, già fervono i preparativi per un gemellaggio a più gruppi. Infatti i ragazzi romani che sono venuti a trovarci in questi giorni già stanno cercando una struttura alberghiera capace di ospitare loro, gli amici svizzeri, noi e anche, su mia richiesta, i ragazzi di San Donato milanese. Questo perché? Perché l'idea principale o quantomeno l'idea ultima del progetto Icaro è quello di creare una rete fra le realtà che si occupano della disabilità giovanile non solo e questo può essere un momento certamente favorevole anche se non sarà per niente facile realizzarlo e anche con un tocco di internazionalità grazie alla presenza degli amici svizzeri.